buonasera buonasera a tutti rieccomi con voi anche stasera ho poco tempo è un flash ma dovevo farlo perché ormai non non riesco a esimermi per aggiornarvi su quanto sta accadendo perché anche oggi è stata una giornata molto calda nelle regioni italiane eh soprattutto al centro sud sebbene il nord non sia stato veramente al fresco comunque le temperature sono abbassate un paio di gradi al nord due tre gradi e un paio di gradi anche al centro al sud invece Masto stabile anzi forse è stata la giornata più calda sono sfiorati quaranta gradi in Puglia eh in Sardegna e le aree interne della Sicilia e a Roma comunque sono stati sempre trentasei gradi trentaquattro a Firenze insomma ci non ci lamentiamo è sempre una fase calda questa fase calda comunque va andrà a decrescere confermato quanto discusso nei giorni scorsi eccolo qui vedete praticamente eh l'immagine che vi mostrerò dopo che questa nei miei spalle evidenzia proprio come ci sia la possibilità che si inneschi ormai molto probabile di un afflusso freddo meridiano quindi da nord verso sud spalleggiato da due figure di alta pressione le vedete alle mie proprio alle mie spalle da una parte dall'altra e al centro un corridoio freddo che dovrebbe andare ad agire sull'Italia a partire da giovedì grosso modo eh già oggi e anche ieri temporali ci sono stati al nord perché l'aria fredda piccola infiltrazione o meglio iniziano a farsi sentire e infatti prima vi ricordo di di iscrivervi sempre al canale YouTube siete tantissime e meno male andate avanti andate avanti così e vi ringrazio tanto per il seguito che continua a essere veramente ehm elevatissimo allora vediamo un attimo ecco guardiamo qui eh allora questa è la solita immagine dell'Italia guardate bene c'è sempre questo andamento anticiclonico delle nuvi seguite il cursore ma come vedete c'è comunque della nuvolosità che si forma al nord est perché le correnti in questo punto iniziano a piegare eh in senso leggere eh anti orario e questa è l'aria fredda che affluisce ormai eh sul mare del nord e e inizia ad approcciare il centro Europa eh ecco quindi andiamo a vedere quindi quello che succederà questa massa di aria fredda andrà a scivolare eh sul lato orientale dell'anticiclone delle azorre che si andrà a fermare in questa zona qui quella che è tra Francia e vicino Atlantico e questo corridoio che si formerà eh genererà un afflusso freddo nelle regioni italiane che appunto porterà un po' di pace a di pausa diciamo a questa fase eh guidata dall'anticiclone africano ed è per questo che vi vado subito a mostrare quest'altra carta guardate questa qui è la carta delle anomalie di temperatura alla quota di mille e cinquecento metri eh che vi ho eh già mostrato molte volte essere diagnostica di come si muovono le masse d'aria fredda e calda questa è l'Europa qui se vedete il cursore non so se lo vedete muovere qui al centro in basso c'è l'Italia dove c'è questa chiazza rossa col col Mediterraneo adesso siamo in anomalia positiva e si sente anche qui c'è questa massa di aria fredda e qui c'è l'anticiclone delle azorre sulla sinistra al centro guardate che cosa succede seguite i colori come vanno il blu guardate il blu al centro il blu al centro al centro il blu ecco qua inizia cambiano i colori sull'Italia guardate questa è già giovedì sera anzi venerdì mattina un primo nucleo guardate come arriva nucleo di aria fredda le anomalie diventano negative sull'Italia e qui questa grande chiazza arancione sul Regno Unito altri non è che l'anticiclone delle azorre che si muove verso nord-est guardate come continua ecco freddo sull'Itfreddo chiamiamolo freddo anomalie negative sull'Italia eh questo corridoio che vedete guardatelo eccolo qua guardate un altro grosso nucleo freddo arriva per il weekend eccolo qui che si è addosso alla barriera alpina vedete questo leggero arancione che c'è al di sotto delle Alpi sulla il Reno se non ci fosse la barriera alpina questa striscia azzurra sarebbe quasi continua con qualche variazione ma le Alpi fungono da sbarramente l'aria fredda è costretta da girarle sulla destra dalla porta di Bora soprattutto rientrare dall'Adriatico vedete guardate che giro fa ed ecco l'aria freddo che sfila un po' in questo caso ma si ripresenta da no guardate lo rimostro guardate scende 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 ecco qua anomalie negative sull'Adriatico vedete come si formano eccole qui guidate proprio dall'anticiclone più riparato il nord-ovest con questa configurazione poi sembra che il caldo eccolo da ovest tende a tornare ma qui siamo al tredici ancora fino al tredici quattordici anomalie negative nelle regioni italiane ve lo posso anche mostrare da questa fase questo è il caldo attuale questo è il dettaglio dell'Italia della stessa carta mille e cinquecento metri di quota delle temperature il rosso caldo caldo guardate scende ecco qua e il sud il centro sud avrà venerdì una giornata piuttosto fresca ve l'ho già annunciato poi torna il poi il caldo ma ancora ecco qua un secondo impulso che arriva nel weekend allora avete visto insomma qual è la linea guida di questa questo peggioramento alta pressione a ovest più a est ma molto più là c'è un'altra un'altra alta pressione questa soprattutto quella ovest che è l'anticiclone dell'Azore che si eleva verso il Regno Unito guiderà questo discesa fredda con il nord ovest che a piara è più riparato ma l'interazione tra il freddo che arriva dal nord Europa e l'aria calda persistente è tutta da vedere quindi approfondiremo nei prossimi giorni quelli che saranno le fenomenologie anche in termini precipitativi per ora sappiate che questo corridoio freddo si apre rimarrà così perlomeno fino a metà mese poi potrebbe tornare il caldo ma ma ne riparleremo nel frattempo questo un afflusso freddo costante colpirà soprattutto le regioni abriatiche ioniche più esposte è vero che parte del nord e alto tirreno potrebbero essere più riparati ma il cambio di circolazione si sentirà e sarà anche abbastanza accentuato e ripeto per i dettagli vedremo nei prossimi giorni ma è tutto confermato vi abbandono adesso con questo flash guardate l'immagine questa è l'immagine che ho che vi ho creato per oggi vedete il corridoio freddo alle mie spalle auguriamoci che vada tutto come speriamo nel frattempo vi do un abbraccio un saluto iscrivetevi sempre al canale medio scienza spero vi sia piaciuto questo flash cercheremo di farne sempre più spesso oltre a naturalmente ai soliti video editoriali molto più approfonditi molto più lunghi nel frattempo questo è quanto si vince dei modelli oggi arrivederci un abbraccio a tutti ciao ciao